Ha salvato Biancaneve, lo farò morire di sé. Alla casina dei sette nani ora andrò io e assumerò tale aspetto che niuno riconoscerà potrà. Ed ora, un filtro che trasformi la mia beltà in orrore e muti il mio regale manto in cenci. E poi, polvere di mummia per invecchiare, tenebre di notte le vesti per annerire. Che cosa mai? Ah! La mela stregata dormirà sempre. Oh, assaggi solo la mela stregata. La vittima è per sempre addormentata nel suo sonno mortale. Può esserci un antidoto. Oh, ecco qua. La vittima del sonno mortale potrà essere richiamata in vita soltanto dal primo bacio d'amore. Bacio d'amore. All right.